Signore, signori, buonasera, ben ritrovati al nostro consueto appuntamento settimanale. Come vi avevo detto, facciamo stasera la seconda serata dedicata alle false verità, cioè a quelle frasi che vengono mai considerate delle verità, ma che non sono assolutamente vere o qualche volta lo sono solo parzialmente. Riprendiamo da questa. L'analisi del capello serve per fare diagnosi di malattia. Per l'amor di Dio, l'analisi del capello serve in qualche particolare caso, per esempio per la ricerca di alcune droghe, ma non serve assolutamente per fare nessuna diagnosi. Quando dicono, io dal capello riesco a capire se mi mancano vitamine, se mi mancano sali minerali, no, non è assolutamente dimostrato. L'analisi del capello non ha un'indicazione così larga come oggi viene suggerito. Ancora, uova e pollo sono pieni di ormoni. Questo lo si sente dire. Questo si fraintende perché a un certo momento avevano trovato delle carni, carni rosse, arricchite di ormoni perché? Perché venivano utilizzati naturalmente nell'animale che poi finiva al macello. Allora, per puntualizzare una volta per tutte, uova e pollo, carni bianche, non hanno nessun difetto che faccia pensare di doverne limitare l'uso. Naturalmente, uova e pollo avranno delle controindicazioni, ma per patologie esistenti, ma non come principio. Ancora, mai mangiare insieme carboidrati e proteine. Ecco, qui c'è stato a un certo momento qualcuno, magari anche famoso, che suggeriva di fare pasti X, ma di non mettere nello stesso pasto carboidrati, zuccheri complessi, amidi, pane, pasta, riso, patate, assieme alle proteine. Non c'è nessun motivo. Una dieta equilibrata deve prevedere l'utilizzo in percentuale, dieta mediterranea, ne abbiamo parlato ripetutamente, ripeto, in percentuale tutti gli elementi della dieta. Quindi, 50-60% di zuccheri, circa 30% di grassi, circa 10-15% di proteine. Ci sono casi particolari in cui questo tipo di dieta va adattata al soggetto e alle condizioni, ma questo è un altro discorso. Ancora, mai mangiare frutta alla fine del pasto. Questo tutti lo dicono, tantissimi senti queste cose che sono assolutamente assurde. Perché veniva consigliato di mangiare la frutta prima del pasto? Perché, soprattutto nelle persone che avevano bisogno di ridurre l'introito alimentare, mangiando un frutto, una mela, una pera, quello che volete, prima del pasto, riduceva il senso della fame. Ma anche questo è un altro discorso. Non bere durante i pasti. No, assolutamente. Bere durante i pasti, diluire il contenuto gastrico, addirittura, può aiutare la digestione. Naturalmente, possibilmente, bevande non gasate. O, se sono gasate, non in grande quantità. Ma bere. Perché, vi ripeto, uno dei problemi più grossi, soprattutto nell'anziano, è il bere troppo poco. Perché invecchiando, perdiamo il senso della sete. Quindi, proprio ci dimentichiamo di bere. Bere acqua dopo una corsa fa male. Non so dove sono andate a pensarle, a queste qui. Ma bere acqua dopo una corsa è necessario. Naturalmente, il quantitativo di acqua deve essere correlato al tipo di attività fisica che abbiamo fatto. Ma tranquillamente utilizziamo quella che ci sentiamo di utilizzare, secondo il nostro senso della sete. Ancora, il vino rosso fa buon sangue. Vino rosso è buono. In Valtellina abbiamo dei rossi eccezionali, ma non fa niente né di bene né di male nel sangue. Sappiamo, naturalmente, che l'abuso di alcolici, e vino rientra fra questi, può dare dei problemi. Problemi al fegato, soprattutto. Ma questo è ancora una volta un altro discorso. Un bicchiere di vino rosso al pasto, addirittura, è utile, è consigliato. Perché? Perché aumenterebbe, anche se di poco, il cosiddetto colesterolo buono. Cioè, quello che ci protegge. A differenza di quello cattivo, che fa esattamente il contrario. La birra fa latte. Questo l'han sempre detto, no? Si diceva alle donne che dovevano allattare, bevi la birra che ti aumenta la quantità di latte. Naturalmente lo si continua a dire, ma non è assolutamente vero. Ancora, questo sicuramente ve lo ricordate. Il pesce aiuta la memoria perché è ricco di fosforo. Allora, non è vero. Pensate, la mia generazione è stata quasi tutti, vi devo dire, ma tantissimi della mia generazione prendevano il fosforo perché così diventavano più intelligenti, andavano meglio a scuola. E lo si prendeva sotto forma di compresse. Tutti lo abbiamo fatto, su consiglio di quella che era la medicina ufficiale di allora. Beh, ricordiamocelo che il fosforo non raggiunge il cervello, non ha nessun effetto. Non ha neanche nessun effetto negativo se preso a piccole dosi. Ha invece effetti negativi se parliamo di certi tipi di pazienti, per esempio quelli affetti da insufficienza renale. Grazie, buonasera. Grazie a tutti.